Sabato 16 giugno presso il piccolo teatro Coccia, la CISL di Novare, in modo particolare lo sportello famiglia della CISL, organizza un convegno dal tema tra lavoro di cura e immigrazione finalizzato a presentare appunto una ricerca sul lavoro del badantato nella nostra provincia a partire da una specifica comunità che è quella ucraina. Presenteremo un libro realizzato dalla dottoressa Stefania Fiocco che racconta la vita di queste persone che svolgono il lavoro di badanti o di colfa nella nostra provincia. Una ricerca statistica e demografica della presenza di queste donne nella nostra provincia e accanto a queste un racconto delle vite vissute da queste donne dal momento della partenza dal loro paese, dalla scelta dell'Italia come paese in cui provenire come immigrate, alle difficoltà dell'inserimento, alle difficoltà del lavoro, un lavoro che le assorbe totalmente perché sono impegnate 24 ore su 24 nella cura dei nostri anziani. È una sorta di risposta autocreata da parte delle nostre famiglie che hanno bisogno di assistenza perché non riescono a gestirsi in autonomia a persone non autosufficienti, non riescono a inserirle nelle strutture perché hanno costi molto elevati e quindi fanno la scelta delle badanti per tenere anche a domicilio gli anziani. Questa iniziativa pubblica che facciamo è per tentare di qualificare anche un po' il lavoro che da anni come CISL facciamo sul seguire le famiglie nella gestione del rapporto di lavoro domestico. Da alcuni anni, ma in modo particolare dal 2008, abbiamo uno sportello strutturato in CISL che offre consulenza alle famiglie che ricercano una badante, consulenza sul contratto di lavoro e poi sulla gestione proprio amministrativa delle buste paga. Un'attività che è cresciuta partendo da numeri sicuramente importanti attorno alle 200 pratiche nel primo anno per poi arrivare adesso a oltre 760 famiglie che seguiamo ad oggi, ma vuol dire che col turnover, con i decessi degli anziani, con l'inserimento ancora di qualcuno di loro in strutture, parliamo di oltre un migliaio di famiglie che ogni anno si accostano al nostro sportello e ci affidano la gestione del rapporto di lavoro. Accanto a loro ovviamente ci sono le donne che riconoscono un po' nel nostro sportello un punto di riferimento per avere informazioni ovviamente relativi alla gestione del rapporto stesso, ma anche alla permanenza sul nostro territorio, quindi tutto il problema dei titoli di soggiorno o anche solo delle pratiche più semplici a cui devono dare risposte che vengono al nostro sportello per avere consulenza.